L'Adri di Rame in azione a Stornarella, in provincia di Foggia, dove i carabinieri della compagnia di Cerignola hanno arrestato in fragranza un 36enne di Ascoli Satriano, intento a rubare dei cavi in una stazione di trasformazione di energia elettrica. Le manette sono scattate nel corso di un servizio di controllo del territorio, nell'ambito delle attività di contrasto a questo genere di reati. I militari dell'arma sono stati allertati da una segnalazione arrivata al numero di emergenza a seguito dell'attivazione di un'allarme anti-intrusione. Giunti sul posto, i carabinieri hanno sorpreso due persone, mentre caricavano a bordo di un SUV una bobina di mille metri di cavi di rame, rubata poco prima nella stazione di energia elettrica, dove si erano introdotti dopo aver manomesso il cancello d'ingresso. Vedendo le divise, i due ladri sono risaliti in macchina allontanandosi a tutta velocità, senza fermarsi all'alt e rischiando di speronare l'auto di servizio. Durante l'inseguimento, gli uomini dell'arma hanno recuperato la refurtiva, abbandonata dai fuggitivi, in una zona di campagna, per poi rintracciare, qualche minuto dopo presso la sua abitazione, anche l'autista del SUV che era stato riconosciuto dai carabinieri. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari e accusato dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il suo complice è ancora ricercato.